ciao a tutti ragazzi c'è la fisica noi ci siamo qui con questo gioco che è warframe allora nella scorsa del episodio abbiamo catturato alfa in questo ciò cercando di capire dove caspita dobbiamo andare di ma sembra che dobbiamo dargli qua nemico zap non è morto strano allo zap nessuno che esiste siamo qua nel cercare di un'arma ma non c'è un cavolo da nessunissima parte la non ci vale perché è chiuso ok dico è buissimo io non ci vedo praticamente niente figuriamoci voi ho sentito ok io vado dritto ok ora del composto inutile come tutto non c'è un posto utile qui dentro allora devo prendere un segmento di potere inimmaginabile che soltanto il più potente dei potenti può avere non so cosa sto dicendo perché in realtà non mi hanno detto niente di questo tanto c'è un segmento nella mappa e non è di qua e quel punto giallo ma siamo tornati dove eravamo prima mi sembra lo stesso identico posto munizioni e pistola si ma se non la pistola non c'è niente c'è di nuovo alfa ma siamo nel stesso posto di prima no tizi mi sparano aiuto 1 1 ecco non è morto non è morto ok riflette di qua l'obiettivo vuolà ok ops prendiamo il segmento ah ecco ma ecco no ma no questo nemico sta scappando sta scappando si sta scappando ok è di qua Ma Sbaglio si sta allontanando il segmento Sarebbe quella cosa verde Ok siamo tornati dove c'era il beacon Il beacon Oh mi è salito tipo Perforazione No Rianimo Ok non so cosa ho fatto Ho speso dei soldi del gioco Credo Ok quindi Vittima di morire se non vogliamo spendere i soldi del gioco Credo che dobbiamo andare di qua Ok la c'è una specie di corridoio Che porta a un luogo Che sembra tipo un'arena No non si va fatta un'arena Qui c'è Missione completata Non ho visto neppure come il coso Però va Adesso posso scegliere cosa Che punti darmi Tipo Danneggiamento a 10% Non c'è una specie di corridoio Se ho detto No è un letto Ah no no Non devo scegliere io È quello che Mi dai basta Ok Grazie Ah no devo scegliere Questo con la pistola Questo con la pistola Questo con la pistola E questo con il fucile Questo No no mi sa che è quello che basta Ok Grazie Ok abbiamo una pistola E delle cose Guarda che il tizio guarda dove metto la freccia Ok Grazie Mi hanno dato delle Armi Andiamo a vedere se possiamo tipo di facciale qui X No non ne ho Ah si ecco Ho questo No Me ne abbiamo date alcune Ma non credo che siano fra queste Ah si eccole Queste sono Ok Ah si Poi ci sono tipo Primario Nessuno Secondario Ah ok ecco Ah ho capito come si equipaggiano le armi Ci ho messo un po' eh Primaria Ne equipaggiamo Blocco XP Questo Prima in effetti sono andato In battaglia soltanto con Il bastone Mi chiedo come cavolo ho fatto a sopravvivere in effetti Ok qua c'è un tavolo X Ah Dobbiamo tipo aggiustare la nave installando i segmenti ovunque Parcchetto accesso multiplayer Ma dove ho letto multiplayer C'è scritto tutt'altra cosa C'è scritto vault prime Aiuto Aiuto Si è bloccato tutto Oh Aiuto 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 Ok Bene Si era bloccato un po' tutto Andiamo avanti Vediamo Un attimo Va bene Questa la lasciamo qui Andiamo La prossima missione Maria Vai Vai X X Si si X X Sto schiacciando X Aiuto Aiuto Non riesco più Ad andare Petta Sembra che è tutto Lo so I fieci Invio Un attimo Ok Ho capito come si fa Ci ho messo un bel po' di tempo Ma ce l'ho fatta Ok Siamo andiamo con l'astronave che va su e giù E qua e di là Ok Siamo su Mariana Caspita che strana uscita E che lag Ok Adesso abbiamo delle armi mistiche Ovvero Queste Che sparano rapidamente E le mistiche spade del tempo Che però attaccano con il Ok Benissimo Non ti stavo ascoltando Stavo guardando le lame del tempo Ok andiamo di qua Guarda E Olè 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 Ok Ci ho messo un po' di tempo Che potenza Sai che lag Perché Ha fatto sto La strata strana Vabbè Da proprio il gioco che lag E non è il programma Si è nascosto intelligentemente Ma io sono La tecnica del Il gheppardo tigrato E aah Ah ecco funziona sempre Gheppardo tigrato Aspetta come si faceva così Uh il tubo Ok è stato molto Emozionante Vediamo Ok stiamo andando Da parte Sbagliata Ok mi sono infilato Nei fogli Aiuto Sono morto Sono morto Ok Dov'è che sta? Di qua? No Oh è strano sto percorso No di qua sono morto Prima Un secondo fa Allora dovevamo Andare Da sopra Ok qui sopra E andare avanti Doccia Ok bene Si è buttato giù Zap Oh aiuto qui è Dove? Perché io non lo so Lo scappo Eeeh Zap Lo zap vince sempre Il lag però Non ha un motivo Perché sta la gandhi In questo modo strano Ci sono delle braccia Ok Cos'erano? Cosa? 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 Oh mamma Che caspita è? Aiuto 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 Accendi sta cosa Vabbè Ma cos'è? Mamma mia Che cose brutti Guarda quanti Zap 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 No non lo voglio Questi Questi Ecco Ne ho ucciso E non lo voglio Rispegare i soldi Quindi Direi che Possiamo salutarsi qui Per oggi è tutto E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Di Questo gioco Non abbiamo vinto niente E ci credo Non può Non più Un principiante Wow Israordinario Ok Oh Ho fatto Tanti scherzi Di lag Ok ragazzi Comunque Dicevo Questa era Wirefire Non so Se lo manderò Molto avanti Credo che farò Degli episodi Molto Molto Raramente Se li farò Dicevo Che Volevo dire Prima di salutarvi Che queste serie Qua come Warfire Spore Creative Verso Le farò Tipo Molto Molto Più Raramente Di minecraft Perché Appunto C'è un programma Da seguire Dove Ci sono C'è un programma Da seguire Per esempio Qualche volta Non farò Questi giochi qua E farò Solo minecraft Dei supervii Che questi giochi qua Li farò Più raramente Quindi Ciao Al prossimo episodio Ciao